Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Il Signore degli Anelli, Viaggi nella Terra di Mezzo, un gioco della Fantasy Flight Games, gli stessi delle case della follia, portato in Italia e tradotto in italiano dalla Asmo d'Italia, che noi ancora una volta ringraziamo. Grazie ragazzi, davvero siete migliori per avercene fornito una copia omaggio per la recensione. Grazie di cuore. Viaggi nella Terra di Mezzo è uno dei giochi più gettonati su Board Game Geek, andate a vedere direttamente il voto che ha preso, ed è un gioco molto interessante perché è un gioco per tutti i tipi di gruppi, ma soprattutto per tutti coloro che hanno adorato, come detto precedentemente, le case della follia. Perché questo è un gioco narrativo, per come li fa ormai praticamente tutti la Fantasy Flight Games, e la cosa bella è che questo gioco qui funziona con l'app. Quindi, come nelle case della follia, è assolutamente indispensabile avere un telefonino, non computer, non portatile, o anche un tablet, per scaricare l'app che vi guiderà direttamente nel gioco e vi farà affrontare questa avventura nella Terra di Mezzo. Questo è un gioco da 1 a 5 giocatori, completamente cooperativo, quindi non prevede, almeno per ora, ma non penso mai, una modalità di sconti diretti, quindi PvP in gergo, ed è un gioco dalla durata dai 100 ai 120 minuti. Poi, ovvio, magari le avventure finali, perché questo gioco ha delle mappe singole, più una modalità campagna. La mappa finale potrebbe durare anche due ore, poi dipende dal tipo di gruppo che siete, se vi fermate a parlare, a scherzare, una partita in media comunque dura sui 120 minuti. Poi vi dirò la valutazione finale, come sempre a fine video. La cosa che mi ha interessato e colpito da morire, andiamo a vedere tutti i giochi del Signore degli Anelli, andiamo a vedere War of the Ring, che secondo me è uno di quelli più belli e iconici, che c'è una battaglia di tutte le forze, Gondor, Rohan, e in mezzo ovviamente Mordor e Isengard, e c'è una battaglia fra eserciti, che ricorda un po' Risico, mentre la Compagnia dell'Anello deve arrivare al Montefato per buttarci dentro l'unica anello. Questo gioco no. Infatti non vedevo loro, e mi sono sempre detto, ma è mai possibile che in tutti i giochi di ruolo, anche tipo Girsa, o nei giochi nei board game, nei giochi da tavolo, io devo sempre fare la parte di Frodo e andare a buttare l'anello dentro il Montefato. A me non me ne frega niente. Io vorrei più un gioco di avventure ambientato nella terra di mezzo, e questo è perfetto ragazzi, perché qui, ovvio, ci sono Nazgul, c'è l'influenza dell'anello, dello Scuro Signore, di Saruman e di tutto quello che volete. Questo è un gioco di avventure basato e ambientato nella terra di mezzo di Tolkien, quindi dimenticatevi la missione di buttare l'unica anello nel Montefato, perché qui non la troverete. Questo è un gioco puramente cooperativo e di avventure. Passiamo all'unboxing. La confezione del gioco, molto bella, faccio sempre vedere la mano per avere un'idea delle dimensioni, comunque quadrata, di dimensioni contenute, pesa abbastanza però comunque per il quantitativo di roba che c'è dentro, è anche il minimo, e si vede una bella copertina con degli orchi Aragorn, Gimli, e poi anche il layout, i colori che hanno scelto per il fonte e le scritte, è veramente molto bello. Apriamo. Preciso ragazzi che l'abbiamo già aperto e giocato perché ci serveva una voglia che si moriva, quindi appena arrivato era uno dei giochi che attendevo di più, infatti vi dirò alla fine, lo abbiamo giocato subito. Manuale di gioco, molto semplice ragazzi, lo leggete una volta avete già capito, perché ripeto come i giochi della Fantasy Flight Games, le case della follia, è l'app che vi dice cosa fare, quindi fondamentalmente sì, il regolamento una lettura li va data, ma una, una e basta. Compendio delle regole, tra l'altro con una bellissima immagine dello scontro al ponte di casa Doom fra Gandalf e il Barrog, e qui ci sono tutte quante le regole descritte, proprio passo per passo, e tutte quante le skill, quindi questo qui è da usare quando avrete letto il regolamento base e dovrete fare una facile lettura per trovare appunto magari la descrizione di una skill, di una carta, di un'abilità o cose del genere. Stop! Questo foglio vi ricorda appunto che se non scaricate l'app non potete giocare. Tile di gioco, il gioco si sviluppa tutto quanto in mappe molto più ampie, tipo un bosco, una foresta, un forte, però a volte capiterà di andare dentro spazi chiusi, che ne so appunto all'interno di un boschettino in particolare, un'area dura o in una stanza di un dungeon, e dovrete usare questi tile, che ovviamente sono duble fass, e far muovere le vostre truppe all'interno. Tile di gioco, divisi da una riga bianca appunto per dividere una zona dall'altra, e se vedete come sono fatti ricordano molto il gioco di Fallout. Sono tutti quanti all'incastro per muovervi nelle mappe del gioco. Mazze di carte che comprendono abilità dei personaggi, classe dei personaggi, abilità del personaggio tipo Bilbo, Frodo, quindi dei caratteri che ci sono all'interno, equipaggiamenti, carte ferita, carte paura, e insomma e quant'altro. Standardi che servono per identificare le truppe sul campo, perché nel caso ci siano tre gruppetti di orchi, tutti uguali, che vi stanno attaccando, l'app alla fin fine impazzirebbe a tenere il conteggio di punti ferita, e entrano in un gioco di standardi. Altre carte, per gli equipaggiamenti a sinistra e le ferite a destra. I vari token, che sembrano tanti ma alla fin fine veramente ragazzi, è un gioco velocissimo, quindi sono giusti. Miniature dei nemici, che comprendono Goblin, Orchetti, Spettri e Warg. Personaggi. Tra l'altro belline, non sono capolavori di miniature, però sono belline, fanno quello che devono fare. E carte dei personaggi, con le varie caratteristiche. In questo caso vedete Aragorn. Allora ragazzi, questa è la composizione di una mappa di partenza, perché sarà sempre l'app a dirvi dove sarà ambientata, se all'aperto o al chiuso, ma nella maggior parte dei casi è all'aperto, fino a che non vi sposterete dentro un dungeon, e il gioco vi dirà qual è la zona di partenza degli eroi. Come vedete, questa è la composizione che ci ha dato l'app, che vi facciamo vedere seguentemente, e praticamente ogni zona è divisa da tile. Vedete, c'è sempre una riga grigia che divide uno o più settori dello stesso tile di gioco, che ovviamente le mappe sono tutte quante componibili. Ciascun eroe, come nelle case della follia, ha due azioni. Quindi, un eroe può fare due movimenti, quindi spostarsi così, oppure potrebbe fare due attacchi, oppure un eroe potrebbe fare un movimento, un attacco, e può successivamente risolvere il secondo movimento, perché i movimenti possono essere interrotti nel mezzo da un'azione. Adesso qui ci sono le carte, vedete ad esempio la carta di Bilbo, con le varie caratteristiche forza, saggezza, agilità, spirito e ingegno, con un simbolo accanto di un colore differente e un valore. Quindi Bilbo, essendo uno scassinatore, lo sapete come tutti gli Hobbit, avrà sicuramente più ingegno, più spirito, più agilità, ma ovviamente meno forza, perché non è prettamente un combattente, più un valore qua giù in fondo. Sulla casella della foglia di Lorien, con un valore, che qui ad esempio c'è scritto 6, sta ad indicare quanti segnalini successo potete mettere sopra la foglia di Lorien, che ora vi dirò come si prendono. Come nelle case della follia, io, ragazzi scusate se vi dico sempre le case della follia, ma questo è le case della follia in ammettazione Signore degli Anelli, quindi è normale. Potrete convertire questi successi per modificare il risultato, l'esito di una prova. Qua sotto vedete le paure di Frodo, a 7, quindi un valore alto, perché alla fin fine Aragorn ha un valore di 5, nelle paure quindi regge molto meglio lo stress che non un Aragorn, però alla fin fine potrà subire soltanto 3 danni, perché come detto prima non è un combattente. Qui in fondo c'è scritta l'abilità del personaggio e girando la carta e leggendo dietro ci dice il ruolo del personaggio consigliato. Voi potete fare anche Bilbo Arciere, o Bilbo Guerriero, ragazzi, o Bilbo Mago, però qui vi dice la classe più consona per Bilbo qual è, gli oggetti, l'equipaggiamento di partenza e il background di Bilbo. Quando inizierete sarà l'app a dirvi quali settori saranno stati già scoperti e quali invece dovrete visitare per scoprire. Quindi quello di partenza ovviamente è già scoperto, magari questo è scoperto, questo è scoperto, questo invece sarà ancora ignote da scoprire. Il gioco vi dirà piazzateci questo segnalino sopra, quadrato, al centro. E poi magari l'app potrebbe dirvi qua giù c'è una zona di interesse, perché queste qui sono sempre azioni di interazione, quindi qualcosa da scoprire, che non per forza potrebbe essere un combattimento o una cosa prettamente negativa, potrebbe dirvi l'app. Invece in questo settore qui c'è una cosa di interesse che potrebbe essere un agguato, una cosa negativa, un combattimento, un conflitto, ma potrebbe anche essere una prova da seguire, qualcosa che serve. Di solito questi rossi sono prove vere e proprie per andare avanti nell'avventura, perché vi ricordo alcune avventure vi diranno ammazzate tutti gli orchetti ad esempio, ma altre avventure potrebbero dirvi seguite delle tracce per trovare il covo di brigante, quindi non per forza dovrete sempre combattere. Sempre l'app ci potrebbe dire qua giù in fondo c'è un NPC, gli NPC ci potrete interagire come nelle case della follia per avere informazioni, anche soltanto quello, sbloccare nuovi settori, sbloccare nuovi indizi o perché no anche commerciare o avere queste secondarie e poi vi potrebbe anche dire che ne so, qua giù ci potrebbe essere del loot, ad esempio un dungeon o cose del genere. Quindi, nel caso di Aragorn potrebbe dire ok, io mi sposto in questo settore qua giù e interagisco con questa zona qua. Voglio vedere cosa c'è sotto. Allora dovete prendere l'app e sarà sempre l'app a dirvi cosa troverete lì sotto. Legolas potrebbe invece che ne so, andare avanti in questa nuova zona. Il primo personaggio che entra senza nessun check, senza nessun tiro, entra in una zona inesplorata, dovrà sempre elevare questo simbolino, girarlo dalla foglia di Lorien, quindi dalla parte opposta su una double face, e metterselo sulla scheda. Io ora l'ho messo nella scheda di Bilbo, fate conto che sia Legolas oppure ci sposto direttamente Bilbo e si fa prima. Bilbo prenderà la foglia di Lorien, questo valore qui sotto dice che lui ne potrà avere 6 massimo impilate una sopra l'altra e questo serviranno per modificare dei successi per non avere un fallimento durante una prova. Quindi, interazione indizio dall'app, interazione possibile oggetto comunque traccia per andare avanti nella storia, zona inesplorata, NPC con cui parlare e tesoro. Ad esempio, sempre l'app, facciamo conto che Legolas debba fare il suo movimento, andrà qua giù, sempre ricordatevi se è una zona inesplorata Legolas dovrà prendere il simbolino e l'app potrebbe dire ok, quando voi arrivate in questa zona qua giù in fondo durante il turno dei mostri perché il gioco si sviluppa fase degli eroi, finita la fase degli eroi c'è la fase dell'ombra dove si muovono mostri. Il gioco potrebbe dirvi ok, qua giù nella stessa casella di Legolas durante un'imboscata appaiono due Goblin due pelle verde qua giù in fondo. Se dovessero far parte dello stesso gruppo allora il gioco vi dirà inseriteli l'app vi dirà mettetele sul tabellone normalmente e lasciateli così. Se invece dovessero far parte di due gruppi distinti e differenti perché ripeto l'app tiene anche il conto dei punti feriti ai mostri così che voi non dobbiate spaggere il tavolo di coreandole e token però come farebbe l'app se fossero due gruppi differenti a sapere quale state attaccando e quindi magari sono due orchetti di due gruppi differenti perché in questo gioco si combattano sempre gruppi difficilmente troverete un mostro da solo almeno che non sia un'elite e il gioco vi dirà magari mettete questo standard vicino a questo e questo standard vicino a quest'altro per ricordarci dall'app che l'armata del pugno è questa e l'armata tipo del teschio è quest'altra qui. All'inizio del turno durante la fase di ricarica degli eroi il gioco vi dirà dal mazzo degli eroi tipo questo qua giù che sarà un mazzo generale vedrete nelle regole ci saranno nel mezzo equipaggiamenti carte abilità e quant'altro pescate due carte e ne potete tenere soltanto una una di queste due carte andranno a formare le cinque carte della rosa del personaggio le abilità e l'equipaggiamento che si porterà dietro questo è un gioco dove non si tirano dadi che da una parte mi piace e da una parte no mi piace perché non c'è da tirare dadi a giro per il tavolo che possono cadere insomma dare fastidio perché ci vuole posto per tirare dadi alla fine infine su un tavolo a volte fanno anche danni si gioca con le carte però la componente è sempre la stessa cioè il fattore fortuna c'è sempre in questo gioco giri la carta sbagliata è come tirare un risultato sbagliato col dado comunque nel caso di un combattimento Legolas con l'arco potrebbe tirare a distanza e magari l'app ci dirà ok fate un tiro su agilità però Legolas come grande combattente di Lorien potrebbe usare le sue spade per combattere in corpo a corpo e magari dirà ok attacco questo orchetto qui quello del pugno l'app ci potrebbe dire ok fai anche questa volta una prova di abilità quindi la prova di abilità di Legolas è 4 perché vedete ha un valore di agilità di 4 e l'app ci potrebbe dire ok per colpire l'orchetto ci vorranno almeno due risultati ok perché magari è nascosto è armato c'è un'armatura una cosa nata ci vorranno almeno due successi quindi Legolas cosa fa prende il suo mazzo questo qui generale pesca tante carte quanto la caratteristica della prova che deve andare ad utilizzare e poi le gira allora le carte avranno sempre due simboli questo simbolo qua su in cima che è il simbolo di un colpito quindi vuol dire che il colpo di Legolas è andato a segno quindi ne avrebbe mandati tre carte a segno sulla carta dell'equipaggiamento di Legolas vi dirà ad esempio con un assegno fate due colpi con tre assegno ne fate quattro e così via comunque ha tre carte a segno e una carta con il simbolo della foglia di Lorien io potrei dire siccome quest'orco ha tanti punti ferita e lo voglio ammazzare subito come nelle case della follia spreco una foglia di Lorien per un successo automatico e anche questa quarta carta qui la converto in un successo e quindi avrò quattro carte successo che nelle abilità di Legolas e nella carta equipaggiamento di Legolas avranno risultato che ne so vedrà con quattro successi fate otto dieci ferite e quindi l'orchetto sarà ucciso lo standardo rimosso e tolto dal gioco installata l'app cliccate si legge un pochino poco ragazzi dal telefonino quindi è meglio se avete un tablet o un computer un fisso comunque va bene si vede lo stesso tra l'altro guardate che figata assurda e c'è già anche la traduzione in italiano meno male avete nuova partita carica partita per andare avanti nel caso vogliate fare una campagna vera e propria dove a fine missione i vostri personaggi passeranno di livello e si compreranno un equipaggiamento nuovo come nel migliori questo dei ricordi e poi collezione perché più avanti ovviamente usciranno anche delle espansioni quindi per sbloccarle fate nuova partita e andando su nuova partita il gioco vi dice da dove volete iniziare c'è una storia da leggere perché questo vi dicevo è molto piccolo è meglio avere un computer o un tablet vi dice qual è la storia scegliete la difficoltà ovviamente potete impostarla su un valore normale o un valore particolarmente difficile per la prima volta vi consigliamo di fare una partita a difficoltà normale e andando avanti il gioco vi dice ok ora scegli un salvataggio uno slot voi scegliete lo slot salvataggio e ora vi dice da qual eroi è composta la vostra compagnia nel caso giochiate in tre sceglierete tre eroi nel caso quattro quattro eroi mettiamo caso io in questo momento stia giocando con mia moglie e abbiamo deciso in due soltanto di tenere tre eroi oppure perché no quattro due per uno quindi facciamo magari abbiamo scelto Aragorn che è un guerriero un Captain che è quello che dà praticamente buff al gruppo abbiamo scelto Beravor che è una maga abbiamo scelto Bilbo che è uno scassinatore e perché no visto che ci mancano ci manca il tank quello forte che regge veramente i colpi prendiamo Gimli e andiamo avanti andando avanti il gioco ci dice ora queste sono le carte le potete cambiare ragazzi non è per forza quello però queste sono le carte che vi serviranno quindi carta ruolo più carte equipaggiamento voi andate dal mazzo equipaggiamenti pescate le carte e le date ai vostri eroi fatto andiamo avanti ora ci dice dai un nome al gruppo perché nel gioco se vi chiamerete la compagnia dell'anello il gioco dirà adesso la compagnia dell'anello si sta avvicinando al bosco magari di Lorien oppure nella contea e quindi il nome del vostro gruppo sarà fortemente richiamato passo dopo passo vi diamo un nome e caricando vi dirà tutta quanta la storia che c'è da leggere quello che succede dove siamo e poi alla fine cliccando su vai avanti qua giù in fondo cliccherete su vai avanti prosegui ci farà vedere la mappa della terra di mezzo tra l'altro ragazzi fatta benissimo e ancora una volta grandi per aver fuso un board game con un gioco per computer selezioneremo l'avventura dove vogliamo andare la zona e faremo conferma ci farà lo zoom sulla parte dell'Eriador dove siamo potremo fare salve ed esci se vogliamo fermare l'avventura leggiamo cosa succede poi diamo conferma e andiamo avanti arrivati a questo punto bisogna scegliere i ruoli il gioco inizialmente ci ha detto quali sono quelli indicati però voi dovrete elencare i ruoli io potrei dire che Aragorn lo voglio capitano Beravor lo voglio incantatore Bilbo lo voglio scassinatore e Gimli lo voglio invece guerriero o tank quindi io le vado a settare quindi per come è messo ora ho dato i ruoli capitano cantore che è Lile scassinatore e guardiano andiamo avanti c'è un attimo di caricamento il gioco è completamente tradotto in italiano ragazzi e quindi non vi preoccupate assolutamente per la lingua e qui il gioco ci dice quanti sono i turni che dovranno passare per arrivare a fine partita e qual è il nostro obiettivo voi ovviamente leggete gli obiettivi e come vedete piano piano iniziano a comparire le mappe come vi ho fatto vedere precedentemente con tutti gli obiettivi da mettere questa ragazzi è l'app è l'app che vi vederà passo passo per quello che dovrete fare ragazzi in conclusione il gioco è molto facile è un gioco della Fantasy Flight Games nel loro classico stile dove è l'app che vi dice cosa fare perché tipo in questi giochi qui come nelle case della follia basta prendere l'app sì il regolamento leggetelo perché c'è qualcosa da sapere che l'app non vi può dire tutto tutto però davvero una lettura di mezz'ora 20 minuti e siete pronti ad iniziare quindi questo è un punto a favore è un gioco fortemente tematico è un gioco fortemente narrativo quindi per tutti quei gruppi che le garba a tirare valanghe di dadi come a zombie side e soprattutto appunto perché qui i dadi non ci sono sostituiti da le carte e quei giocatori che non gli piace la narrativa perché ricordatevi uno di voi dovrà narrare dovrà fare il dungeon master tra molte virgolette dovrà fare il narratore quindi se uno non lo vuol fare si vergogna non c'ha una bella voce oppure anche perché no intacca tanto quando legge questo non è assolutamente un gioco indicato questo mi sento a riconsigliarlo quasi a tutti però prettamente ai giocatori di ruolo di vecchio stampo dungeon and dragons girza appunto come me perché questo è un gioco ripeto dove c'è un app ma ci deve essere anche un narratore come voto finale gli do un bel 8 su 10 meritato assolutamente ed anzi lo preferisco anche alle case della follia perché le case della follia è molto molto dentro ambiente vabbè stile Lovecraft dentro case abbandonate vecchi porti oppure miniere e cose del genere questo invece è molto più all'aperto e ogni tanto ogni tanto si sposta in dei posti chiusi tipo dungeon fortezza abbandonate con l'evento e cose varie però per la maggior parte è molto più aperto gli do un 8 su 10 gli avrei dato anche 10 vi dico la verità perché mi sta aggarmando da morire e mi ha tolto la voglia di giocare a tanti altri board game perché questo oltretutto è un gioco che si calibra bene però questo poi vi dirò anche un punto a favore e sfavore si calibra bene anche con pochi giocatori quindi lo potete giocare tranquillamente anche in due usando un personaggio a testa però c'è un piccolo problema e questo mi fa abbassare il voto di un punto e poi vi dico perché l'altro questo perché in due sto gioco si gioca bene la difficoltà è giusta in tre tre tenendo un personaggio a testa e ovviamente in tre personaggi si gioca bene in cinque inizia a diventare un po' troppo complicato perché il gioco dice l'app dice ok siete tanti avete il mago avete il tank avete tutte le classi potete fronteggiare qualsiasi problema ragazzi nell'ultima partita eravamo fino a metà avventura full di vita magari c'era una paura una ferita però eravamo messi benissimo da un momento an'altro l'app dice che sbucano frecce dai lati uno di noi è morto subito perché sono arrivate tipo cinque frecce addosso è morto e poi sono arrivati tre warg quattro orchi e un elite cioè nel giro di mezza partita eravamo perfetti abbiamo perso ma non perché stessa andando male la partita abbiamo giocato male perché da un momento all'altro il gioco ha deciso che noi dovevamo morire e non eravamo nemmeno nella fase finale dove ovviamente l'ombra cala la notte ovviamente si risveglia i mostri diventano molto più potenti e aggressivi no quindi un punto a sfavore ma non per cattiveria perché potevano calibrarlo un po' meglio in pochi si gioca bene in tanti diventa un po' difficile e il secondo punto a sfavore perché ragazzi è un pochino di narrativa dove c'era la voce di doppiatore merluzzo se non erro nelle case della follia è bello sentire anche una voce narrante ora nelle case della follia la voce narrante ci fa solamente l'incipit lo potevano fare anche qui questo gioco è un po' troppo muto non ci è parlato ora le cose da leggere ragazzi con un tablet ve le leggete velocemente ma vi immaginate non sarebbe costato forse quello che costa sarebbe costato 200 euro per pagare i doppiatori ma ve lo immaginate tutto doppiato in italiano c'è tutto che ti non devi leggere nulla tipo atmosphere prendi l'app la metti giù clicchi play e c'è un lettore che vi legge tutto te non devi leggere nulla e vi dice anche la prova da fare ragazzi sarebbe stato 100.000 volte più bello ma non si può pretendere una cosa del genere quindi voto 8 su 10 ragazzi un gioco se siete per i giochi cooperativa e di narrativa da avere assolutamente non vi può scappare e finalmente un gioco ambientato nella terra di mezzo dove di prendere l'unico anello e buttarlo nel monte fato non me ne frega nulla oh finalmente Deo Grazia 8 su 10 ragazzi in descrizione trovate tutti i link per acquistarlo ovviamente sul sito dell'Asmo d'Italia link ovviamente in descrizione per il nostro canale live su Twitch e i nostri social io spero che il video vi sia piaciuto ringrazio ancora una volta Asmo d'Italia grazie ragazzi tra l'altro ho chiesto il giorno dopo ce la va a casa mi date nemmeno il tempo richiedervi le cose che già arrivano grazie veramente di cuore è un piacere un onore lavorare con voi e spero che il video vi sia piaciuto ragazzi compratelo assolutamente e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate ciao alla prossima grazie a tutti